Ciao a tutti, io sono Max ed eccoci arrivati alla terza e ultima parte della saga del Babbo Natale arrivato in città. Questo vuol dire che si sta avvicinando il Natale, lo sentite nell'aria, questi campanellini, queste cosine, questo festicciolo, bello, tutto bello, bello, bello. Come chiudere degnamente questa serie di video con un centro tavolo, luminoso. Questo vasetto non c'è bisogno che ve lo presenti, tanto sapete tutti di che prodotto è, non facciamo pubblicità occulta, ma tanto lo sapete tutti. Con questo vasetto e queste lucettine, che adesso vi faccio vedere, che carine, sono dei multicolor. Eccoli qua, adesso è tutto arrotolato, ma quello srotoleremo, vede, hanno più effetti. Con questo multicolor creeremo un centro tavolo a natalizio. Adesso dentro ci andrà qualcosa, non so ancora cosa metterci dentro, stavo pensando degli alberelli delle cose appena ne faccio. Nel prossimo video vedrete piano piano e vi tengo aggiornati. Questi sono degli alberelli che ho fatto io in sede precedente, come vi farò vedere adesso dalle foto. Questi alberelli con pinzette li metterò nel barattolino. Ecco fatto, vediamo se è riuscito a vedere bene, diamogli una pseudo composizione. Poi, la luce. Prima di tutto, sul tappo, mettiamo l'interruttore. Con il pennarello, insegno i contorni. Ecco fatto. Questa fascetta, per malissimo anche se si trova nei negozi, fare in modo di fissare l'interruttore. Così si può chiudere il barattolo. Bene. Adesso il telecomando, dove avete fatto i segni, semplicemente si tira la fascetta. Stringiamo abbastanza, non tantissimo, perché se no si deforma il coperchio. Non vogliamo che si deformi. Stringiamo la plastica in più e la buttiamo. Poi, così, messa. Questo è facoltantino, però viene bene. Una cosa di natale, un pentrotale. Un po' di, vediamo, questo si taglia. Se uno vuole, c'è anche il gancio per appenderlo da qualche parte. E adesso, con molta, molta, molta pazienza, srotoliamo questa cosina e cerchiamo di metterla nel barattolo in modo uniforme. e cerchiamo di metterla nel barattolo in modo uniforme. ed ecco fatto. Questo è il prodotto quasi finito. Adesso noi prendiamo il nostro bel coperchio, lo stringiamo e voilà. Ecco qua. Il nostro bel portavaso, il nostro bel vaso, con una composizione arboricola e lucette di Natale. Ah, adesso. Sicuramente, se io apro il coperchio, con il comando, posso anche variare, eh? Diciamo che sembra Natale, facciamo una prena intermittenza, che sa di Natale. Questa. Molto sparaflesciante, molto natalizia. Questo è quanto. non è difficile. Un po' di pazienza. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like. Se vi va, iscrivetevi al mio canale. Un saluto dal vostro Max. Maxi Max. Adesso nel Natalizio.